intanto me lo chiedono ma com'è mai, ma com'è nato come ti è nato, l'idea, secondo te sto male venerdì sera si, gli escort mi salva subito tra sei mesi c'è quella geriatra stai lì a stanzicare un po' di fun, un po' di pc guarda, irologi, macchine e cose tanto penso, friday night, perfetto, tranquilla tanto sanzica, si rinsalisce alza l'occhio, la prima una per l'altra che c'è di me? ma, lei è stata molestata? chi, Silvia? chi? ma, è stata molestata? Silvia, chi? chi è stata? la pecola secondo te sto male è stata molestata la pecola non approfondiscono che sogno sanno a farmi voglia? la pecola stuprata nelle colline di Moliton campus ma gli uomini molestano le pecore? no, lascia ma lascia sta lascia sta purtroppo non capisco ma lascia sta lasciata ma potrei cercarlo su internet morta la maestra alle elementari di Siri? purtroppo non capisco morta la maestra alle elementari Siri ma potrei cercarlo su internet allora, mi moglie sogna le pecore stuprate questo Siri capisce la mazza e secondo te sto male a sto punto metto le cuore morirlo e poi si guarda la mia vita